Oggi costruiremo una piccola blomba che verrà attaccata a un ramoscello di olivo di quelli che sventureremo alla domenica delle palme. I materiali necessari. Abbiamo un vasetto con la terra, un ramoscello di olivo, un foglio di carta, un piatto e dello spago. Per cominciare, con l'asilo di un piatto, disegniamo una circonferenza su di un foglio bianco. Una volta disegnata la circonferenza, lo ritagliamo. Ora procediamo con la piegatura dell'origami. Pieghiamo il foglio a metà e poi pieghiamo a metà un'aletta e l'altra metà la seconda diretta. Avremo formato un triangolo. Una volta formato il triangolo, lo ripieghiamo ancora a metà. Taglieremo un pezzettino più o meno a un terzo del cono fino al centro, che saranno le nostre ali, poiché piegare verso l'altro sarà un'ala e da quest'altra parte la seconda ala. Ora ci manca il becco. Dalla punta pieghiamo verso l'interno e spunterà il nostro becco. Ecco la nostra colomba. È momento di decorarla. Adesso mettiamo il ramoscello nel vasetto di terra. Con lo spago di plastica facciamo un piccolo nodino intorno alla testa della colomba. Adesso agganciamo la colomba al nostro ramoscello di olivo. La colomba è pronta. Mettatevi all'opera e postate le vostre foto. Alla prossima!